Cosa succede invece se inizio a considerare grafi orientati? Allora, la definizione è praticamente identica. Quindi, in un grafo orientato, un ciclo C di lunghezza K maggiore o uguale di 2 è una mia decisione, includo anche cicli in cui vado da A a B e poi torno indietro da B ad A. Perché quel particolare arco doppio, se per esempio qua ci fosse quest'arco, quello molti lo considerano un ciclo esso stesso. Quindi, identifichiamo anche questo nei grafi orientati. In questo particolare esempio, cioè senza la mia aggiunta a penna, l'idea è che abbiamo un ciclo fatto da 5 nodi, 5 archi orientati e vedete che le frecce vanno tutte nella direzione giusta. E quindi abbiamo anche questo problema. Una cosa che non mi pare di aver detto prima, che è un ciclo semplice, se tutti i suoi nodi sono distinti, a esclusione del primo e l'ultimo, che sono uguali, cioè nel senso si ragganciano uno con l'altro. Però se no ci potrebbero essere dei cicli in cui giro attorno a alcuni nodi più di una volta e non ci interessa. Un grafo orientato che non contiene cicli è detto DAG, Directed Cyclic Graph. E sui DAG, che rappresentano una classe di problemi ben precisa, vedremo alcuni algoritmi specifici. E ovviamente un grafo invece è ciclico se contiene un ciclo. Quindi la cosa che vogliamo risolvere è lo stesso. Dato un grafo orientato, copia e incolla, scusate, scrivere un algoritmo che restituisca true se G contiene un ciclo, false altrimenti. Ok? Problema. L'algoritmo che abbiamo visto prima va ancora bene oppure no? Oppure riuscite a concepire un esempio in cui l'algoritmo di prima non va bene? Ora, il grafo, quello che ha detto il vostro collega è la cosa seguente. Se esistono due cammini che mi portano allo stesso nodo, e il mio algoritmo di prima mi dirà che un certo nodo è già stato visitato, ma la risposta, quindi la risposta dovrebbe essere true, cioè è un ciclo, ma non è detto che sia sempre così. Per esempio in questo esempio, che poi è ridisegnato meglio nel lucido successivo, in questo particolare esempio io visito, per esempio, da A vado a visitare B, lo marco come visitato, da lì non posso più andare avanti, poi visito C, lo marco come visitato, posso andare in B, dichiaro che c'è un ciclo, ma non c'è veramente un ciclo. Ok? Quindi questo è lo stesso esempio, però disegnato decentemente. Ok? Quindi qua vediamo la visita, B, poi C, poi vado da A a C e lo visito a volte. Allora, per risolvere questo problema, riprendo in mano la visita e aggiungo un po' di informazioni, quindi complico lo schema di visita. Perché lo facciamo? Per due motivi. Uno, perché ci permetterà di risolvere questo problema del ciclico oppure no. E due, perché anche quando non utilizzeremo tutto il meccanismo che vi sto per descrivere, almeno ci servirà a fare dimostrazioni di correttezza sugli algoritmi che andiamo a scrivere. Quindi anche se dopo, adesso vedrete nel lucido successivo, c'è parecchio codice, sembra una cosa enorme, ma poi alla fine quello che ci interessa è la logica, non tanto il codice in sé per sé. Ok, allora, tutte le volte che voi esaminate un arco da un nodo visitato a un nodo non visitato, ok, tale arco viene detto arco dell'albero. Ok, quindi l'idea generale è che, per esempio, nel grafo che vedete sopra, questo, ci sono vari nodi e vari archi, nel momento in cui lo visitate a partire, per esempio, da A, ogni visita partendo da un nodo diverso è potenzialmente diversa, in questo caso vedete che da A posso decidere di andare a visitare D per qualche motivo e da D non posso andare più da, no, scusate, prima visito B, ok, da B posso visitare C, da C posso rivisitare A, ma non posso andare avanti, quindi dopo visiterò D. Questa è una visita in profondità. E allora, questi archi che vedete in rosso, che sono anche evidenziati dal colore qui, sono gli archi in avanti, ok, scusate, sono gli archi dell'albero. Quindi sono gli archi della vostra visita che state effettuando. Questo è quello che salta fuori da una visita, ma noi facciamo anche un'altra cosa, che è la seguente, categorizziamo tutti gli altri archi in base a alcune loro proprietà. Allora, in modo particolare, diciamo che, se considero l'albero della visita, se U è un antenato di V nell'albero della visita, e Uv è un arco, quindi va da un antenato, cioè da un navo nella visita, un discendente, allora questo arco è detto arco in avanti. Se U è un discendente di V in T, quindi il rapporto è inverso, quindi vado da un nodo che è più in basso nell'albero della visita, verso un nodo che è più in alto nell'albero della visita, allora questo è detto arco all'indietro. Se invece non vale né la prima condizione, né la seconda condizione, né anche la primissima, cioè che sia un arco dell'albero, allora viene detto arco di attraversamento, e in realtà non ci interessa più di tanto, però è un quarto caso, giusto perché stiamo facendo una categorizzazione. Allora, ripeto, se partiamo dal nodo A, e inizio a visitare il nodo B, e poi visito il nodo C, nel momento in cui da C posso andare ad A, vedete che esiste un arco che da C va ad A, questo arco che vedete qua, evidenziato in marroncino, questo arco è un arco che va da un discendente C verso un antenato A, e quindi, secondo le regole che ci siamo dati qui, è un arco all'indietro, e quindi colore marroncino qua, colore marroncino qua. Ok? Invece, se poi da A riesco ad andare in C, ma C l'ho già visitato, quindi fa già parte dell'albero, allora sto andando da un antenato a un discendente nell'albero, quello è un arco in avanti, in violetta qua, in violetta sulla figura. Altrimenti, tutti gli altri che vedete, sono archi di attraversamento, perché non vanno né da un antenato a un discendente, né da un discendente dell'antenato. Ora, visto così, adesso arrivo, visto così non si capisce molto, ok? Quello che faccio dopo è scrivere del codice, che ci permetterà di categorizzare in maniera automatica quello che sono. Allora, a questo punto vedete sto bestione di codice. Spaventa un attimo, però ricordatevi sempre che quando faccio uno schema generale, mi tocca fare tutti i particolari, cioè tutti i possibili casi. Quando poi applichiamo questa cosa a un problema vero, probabilmente, anzi, sicuramente, butto via due terzi di tutto questo schema, perché in un caso particolare mi serve solo una sottoparte. Allora, quello che vedete qui è questo. La prima parte, queste due elementi che vengono passati, è normale comportamento di una visita. Quindi ho il grafo che sto visitando e il nodo che sto visitando. Fin qui niente di particolare. Però passo anche informazione su un fantomatico tempo, che adesso vi spiego, e due vettori, grandi quanti i nodi del grafo, che sono il discovery time e il finish time. Ok? Quindi avrò questi valori che vengono associati. Ora, di base, potete assumere, non ho il codice che chiama questa, però che all'inizio discovery time e finish time siano tutti inizializzati a zero. Ok? Allora, quando faccio una visita, faccio un'operazione di questo tipo. Notate che non ho più visited, perché tanto il ruolo di visited è espresso dal discovery time. E quello che faccio è, aggiungo uno alla variabile time, che è passata per riferimento, quindi è globale, e qualunque sia il valore iniziale, gli aggiungo uno. Ora, inizialmente, il valore sarà zero, quindi al primo nodo visitato segneremo il discovery time uguale a uno. Poi, registro questo discovery time sul... cioè, registro questo valore dell'orologio sul discovery time. E quindi lo vado a mettere nella variabile dt. poi faccio una visita in profondità, quindi per ognuno degli archi che sono in uscita dal nodo U che sto visitando, ok? Quello che vado a fare è visitare tutti gli archi UV. Visito l'arco UV, qualunque cosa questo significhi, se è necessario, se bisogna fare qualcosa, se bisogna sommare un valore. Qua ci sarà il vostro algoritmo, ok? E poi mi pongo quattro domande. La prima è... Ah, le domande sono in esclusiva, quindi se la prima è vera, allora c'è una condizione. Altrimenti, guardo un'altra condizione, else if, se questa è vera, allora siamo nel secondo caso, altrimenti nel terzo caso, alla fine c'è un else e racchiude tutto. Ora, se il discovery time di V è uguale a zero, questo corrisponde a un visit ed uguale false. Sto raggiungendo un nodo che non ho ancora visitato. Quindi, visito l'arco se devo fare qualcosa con gli archi degli alberi e poi chiamo la mia funzione in maniera ricorsiva. Notate che non devo passare niente di particolare, nel senso che passerò a V, che è il nodo che vado a visitare, il prossimo nodo che vado a visitare. Time di T, F e T vengono passati per riferimento e quindi siamo a posto così. E questo è identico a quello che abbiamo fatto prima, cioè se scopro un nodo nuovo, va bene, è nuovo, siamo a posto. Nell'algoritmo di prima, l'idea è che se non era, cioè se era già stato scoperto, allora era già stato visitato, allora c'era un ciclo, ma abbiamo detto che non è vero, bisogna distinguere. E lo facciamo in questo modo. Se il discovery di time di U è maggiore del discovery time di V e il finish time di V è uguale a zero, allora sto visitando un arco all'indietro e quindi mi posso sapere che questo è un arco all'indietro. Allora, cosa significa questo? Perché manca un lucido successivo, ma posso anticipare alcune cose. Se il finish time è uguale a zero, significa che io sto raggiungendo un nodo che non ha ancora terminato la sua visita. e questo significa che non sto raggiungendo un'area del grafo che è già stata completamente visitata, sto raggiungendo un nodo che ancora deve essere scoperto, scusate, che ancora deve terminare di visitare tutti i nodi che sono adiacenti. C'è un'altra condizione che è il discovery time di U è maggiore del discovery time di V. Cosa significa? Significa che io sto andando a un nodo che sto visitando adesso, a un discovery time che è più alto del discovery time del nodo che avevo, che stavo visitando. Allora, siccome, cerco di spiegarlo meglio, siccome questo time è in continua crescita, ok, questo significa che sto raggiungendo un mio antenato e dopo lo vedrete meglio con un esempio. Se raggiungo un mio antenato e non è ancora stato completato la sua visita, questo significa che ho trovato un arco all'indietro perché sto andando da un discendente a un antenato e quindi, essendo un arco all'indietro, poi potrò fare alcune cose che vedrete quando andiamo a cercare i cicli. Altrimenti, terza condizione, se il discovery time di U è minore del discovery time di V, cosa significa questo? Esattamente l'inverso di prima, quindi vado a vedere se per caso se non è un mio antenato è un mio discendente, e vado a vedere che però il finish time di V sia diverso da zero, allora questo è un arco in avanti. Altrimenti, se non vale la prima, la seconda, la terza condizione, allora è un arco di attraversamento. Alla fine, quello che è scritto qua sotto, aggiorno di uno il tempo e poi aggiorno, registro questo tempo nel finish time. adesso vediamo un esempio e spero che sia un pochino più chiaro. Allora, supponiamo di partire da A. Allora, ad A arrivo con il time uguale a zero. La visita di A la prima cosa che fa è fare time uguale time più uno e registrarlo nel finish time di A. Io, personalmente, segno così. Apro e chiuso una quadra, metto un primo valore che è il discovery time, non metto il secondo valore perché non esiste ancora un finish time e vado avanti. A questo punto supponiamo che fra gli archi che ho a disposizione li visito in ordine alfabetico e quindi vado a visitare l'arco che va da A a B. Ok? Allora, il discovery time di V, il nodo in cui vado ad arrivare, è uguale a zero perché non l'ho ancora scoperto. Quindi questo è un arco dell'albero ed è la prima condizione quella che vedete qua. A questo punto posso segnare un discovery time a B che è due, uno in più di quello precedente. Da B a C è l'unica cosa che posso fare e quindi scopro un nuovo nodo perché il discovery time di C non è ancora stato assegnato e quindi trovo un altro arco dell'albero e assegno al nodo C il valore discovery time 3. Ok? A questo punto da C non posso andare da nessun'altra parte. Non c'è modo di avanzare. Allora, cosa posso fare? Farò questo for each ma non ci sono archi in uscita quindi arrivo in fondo. Aggiorno di 1 il tempo e registro nel finish time stavolta. quindi mi ritroverò con 3,4. Ok? Adesso torno a B perché torno a B? Perché ricorsivamente da B ho chiamato C C ha completato quindi torniamo il controllo a B. B ha visitato l'arco BC ma da qui in poi deve visitare tutti gli altri archi ma non ci sono altri archi quindi anche B ha finito. Quindi cosa può fare? Chiudere anche lui finish time uguale c'è un'unica variabile globale orologio ok? E quindi il finish time viene incrementato di 1 diventa 5 e viene registrato. Dopodiché siamo in A perché? Perché da B non c'è nulla da fare quindi ho tornato il controllo ad A in A si possono fare varie cose cioè non varie cose se ne può fare un'altra ovvero altre due cose scusate si può andare in C ok? Perché da C da A posso andare in C e però attenzione il discovery time di U che sarebbe il discovery time di A è più piccolo del discovery time di V che sarebbe quello di C perché sto visitando l'arco da A C e il finish time di V è diverso da 0 quindi questo è un arco in avanti e registrerò questa cosa colorando di blu scusate di violetto l'arco non c'è altro da dire perché non ho completato la vita di A a questo punto da A posso andare anche in D ma D non è ancora stato visitato quindi è un arco dell'albero essendo un arco dell'albero lo coloro di rosso ma soprattutto posso assegnare il valore 6 che è il prossimo valore disponibile sull'orologio a quel nodo a questo punto da D potrei andare in B ok però nessuna delle condizioni che abbiamo visto finora no scusate l'arco che sto considerando è quello che va da D ad A perché li sto considerando in ordine alfabetico il discovery time di U è maggiore del discovery time di V cioè il discovery time di D è maggiore del discovery time di A e il finish time di V cioè di A è uguale a 0 quindi questo è un arco all'indietro e in effetti è un arco che mi riporta a un mio antenato a questo punto posso visitare da D B che mi aveva confuso un attimo prima e questo è un arco che non rispetta nessuna delle tre regole precedenti quindi c'è un else e quindi è un arco di attraversamento ok ho finito? no perché c'è ancora l'arco cioè scusate il nodo E che non è ancora stato visitato e non è raggiungibile da A quindi dovrò fare anche quello ma prima di fare quello devo completare la visita di D la visita di D ormai ha visitato tutti gli archi quindi posso chiudere D 7 e posso chiudere A 8 a questo punto se riparto da E c'è un unico contatore E inizierà con 9 può andare in C che ha valore 3 4 se guardate le condizioni nessuna viene rispettata quindi è il ramo else finale quindi è un arco di attraversamento a questo punto chiudo la visita di E e ho finito non c'è più nulla da fare ora che ce ne facciamo di tutta sta confusione qua dobbiamo capire cosa succede vorrei farvi vedere una cosa guardate per esempio l'arco i numeri che sono associati ad A e i numeri che sono associati a B ok 1 8 e 2 5 allora se considerate questi come intervalli temporali 2 5 è contenuto in 1 8 come intervalli ok quando questo avviene il nodo associato all'intervallo contenuto è un discendente il nodo associato all'intervallo contenente è l'antenato ok ed è per quello che dopo posso fare questo tipo di ragionamenti su sono archi in avanti e un archi in indietro perché sto determinando cosa è antenato e cosa è discendente ok per esempio anche 3 4 è contenuto in 1 8 come intervalli e quindi anche C è un antenato e anche 6 7 è contenuto in 1 8 quindi anche 6 7 è un intervallo di 1 8 è un discendente di 1 8 di A però se mi vado a domandare se per caso D è un discendente di B la risposta è non è né un discendente né un antenato perché perché hanno i due intervalli sono completamente disgiunti uno va da 2 a 5 e l'altro inizia da 6 e termina in 7 quindi questi due nodi non hanno un rapporto di essere 1 discendente dell'altro ok lo stesso vale per 9 10 tra 4 sono completamente distinti manco si toccano ok quindi sono due oggetti due nodi che non sono collegati da una relazione di essere antenato o essere discendente nell'albero della visita quindi perché classifichiamo gli archi classifichiamo gli archi perché tramite questi numeri possiamo dimostrare delle proprietà sugli archi per costruire algoritmi migliori adesso vi farò vedere un esempio in generale il teorema che vi ho accennato facendolo vedere la dimostrazione completa la trovate sul libro non la faccio qui è che data una visita DFS una qualunque visita ogni visita genera numeri diversi per ogni coppia di nodi U e V solo una delle condizioni seguenti è vera o uno è discendente dell'altro o viceversa oppure non sono collegati da una relazione di essere discendenti oppure no e tutto questo può essere misurato tramite gli intervalli quindi se un intervallo è contenuto in un altro allora quel nodo dell'intervallo è contenuto in un discendente altrimenti è un antenato allora che ci facciamo di una cosa del genere per esempio utilizziamo questo teorema che invece vi vado a dimostrare un grafo orientato è aciclico se solo se non esistono archi all'indietro quindi a me basta trovare un arco all'indietro per dichiarare che il grafo è aciclico e se non lo trovo visto che c'è un se solo se posso dichiarare che il grafo è scusate se trovo un arco all'indietro è ciclico se non lo trovo è aciclico ok dimostrazione se esiste un ciclo prima o poi nella visita lo andrò a toccare cioè io ho un ciclo di qualche tipo io parto la visita da qualche parte a un certo punto arrivo al ciclo o vuoi che ci arrivo perché è il primo nodo da cui parto vuoi che ci arrivo perché ho iniziato a fare la visita ci sono arrivato sopra vuoi anche che il grafo sia disconnesso però riparto dalla visita ad un altro punto se c'è un ciclo prima o poi lo visito ok quindi sia U il primo nodo del ciclo che viene visitato e sia VU un arco del ciclo quindi un arco che mi porta da V ad U questo nodo questo arco esiste cioè deve esserci un arco che mi porta a U perché sennò non è un ciclo cioè sennò U non fa parte di un ciclo più che altro quindi c'è U che è il primo nodo nel ciclo e un nodo V che mi ci porta ok il cammino che connette U a V che esiste perché esiste un ciclo ok verrà prima o poi visitato quindi inizierò a visitare quel cammino quindi a un certo punto siccome sono entrato nel ciclo a partire da U quindi il suo valore di visita è il più piccolo dei valori compresi nel ciclo a un certo punto arriverò a questo nodo con un certo valore di visita 7 e andrò a visitare passerò quest'arco V che esiste che mi porta al nodo U che farà in modo che la mia condizione me lo identificherà come un arco all'indietro è un arco all'indietro e quindi questo arco all'indietro verrà prima o poi scoperto dalla visita solo se se esiste un arco all'indietro dove V è un antenato di U dove V è un antenato di U allora esiste un cammino da V ad U e un arco da U a V ovvero un ciclo quindi se trovo un qualunque arco all'indietro concordate che sono riuscito a fare tutta una serie di visite poi ho trovato un arco che mi riporta a uno dei nodi precedenti quindi esiste un ciclo quindi valgono entrambe le condizioni quindi il mio problema si risolve a si riduce a questo c'è un arco all'indietro oppure no se non c'è rispondi false non ci sono cicli se scusate si rispondi false perché stiamo cercando i cicli se invece trovi un arco all'indietro rispondi true allora tutto lo schema che abbiamo visto prima si riduce a molto meno perché non ho bisogno di tutto questo casino diciamo ok posso farlo in questo modo allora mi passo il time di t ft allora una volta che entro vado a mettere time uguale time più 1 una volta che una volta che entro registro il tempo come prima se di t di v uguale a 0 vuol dire che è un nodo che non ho ancora scoperto quindi devo andare avanti nella visita quindi vado avanti nella visita facendo questa as cycle ok e se questo as cycle mi ritorna true vuol dire che da qualche parte andando avanti nella visita ho trovato un arco all'indietro quindi restituirò anch'io un arco all'indietro true che l'ho trovato ok altrimenti se andando avanti nella visita non trovo archi all'indietro ma invece scusate non altrimenti non ho trovato archi all'indietro altrimenti ho raggiunto un nodo che ho già visitato devo andare a vedere se per caso l'ho raggiunto tramite un arco all'indietro se l'ho raggiunto tramite un arco all'indietro allora return true c'è un arco all'indietro c'è un c'è un ciclo altrimenti se ho completato tutta questa parte di visita e non ho trovato quello che mi serve faccio un return false faccio un esempio allora questo è il grafo che abbiamo detto non deve dare cicli non deve restituire true se stiamo cercando cicli parto da A e qui ci sono le quattro regole diciamo in scenario allora parto da A 1 vado a B è nuovo quindi me lo segno con 2 vado a C me lo segno è nuovo me lo segno con 3 da C non vado da nessuna parte chiudo con 4 vado torno indietro a B per la ricorsione quindi determino che c'è un valore pari a faccio un finish time pari a 5 perché perché non posso più andare da nessuna parte quindi torno ad A vado a vedere cos'è questo arco che mi connette verso C la condizione questa non è verificata perché il discovery time di U cioè del nodo da cui parto A non è maggiore del discovery time di V cioè il nodo in cui arrivo C anzi è il contrario e non solo il finish time di V è diverso da 0 ok quindi posso dire che questo arco è in avanti gli archi in avanti non fanno cicli ok quindi non essendo un ciclo non ritornerò true e il mio algoritmo terminerà marchiando con 6 e poi non avrò trovato alcun ciclo se non viene individuato nessun C arco all'indietro quindi tutte le chiamate ricorsive arrivano al termine e ritornano false quello che vedete qui altrimenti prendete questo pezzo di codice scusate questo grafo questo grafo ha un ciclo perché ho invertito la direzione di C ed A allora quello che succede è che da A vado marchio 1 andare in B è nuovo da B vado in C è nuovo e quindi marchio C in 3 a questo punto da C vado in A C ha un valore 3 che è più grande del valore di A in cui vado quindi qui la condizione del maggiore è rispettata e il finish time di A è ancora 0 significa non l'ho ancora terminato e quindi è un arco all'indietro e quindi effettivamente è un ciclo ok in questi due semplicissimi esempi abbiamo visto più o meno quello che succede allora in questo caso a un certo punto identifico un arco all'indietro da quel punto in poi tutte le chiamate ricorsive ritornano true finché non ritorno true al chiamante